Rino Marchesi, ex allenatore del Napoli, che effetto le fa a vedere la squadra di Mazzarri che dopo la lunga rincorsa della Juventus adesso sembra essersi squagliata? No, squagliata no. Non è un periodo fortunato. Anche negli anni scorsi in questo periodo ha avuto qualche problema. Fan fatica a far gol, soprattutto Cavani, perché gli attaccanti abitualmente che segnano tanto hanno dei periodi anche loro che non trovano la porta. Domenico ha sbagliato il rigore. Però la squadra non riesce ad esprimere ancora quella forza e quel gioco che ci ha abituati magari all'inizio di campionato. Anche loro, non avendo in questo momento le coppe, dovrebbero essere più brillanti di quelli che sono. E allora che cosa è successo? Ci sono ancora dei difetti di maturità, problemi di crescita per questa squadra? Probabilmente qualcosa per arrivare al massimo traguardo manca ancora. Da un punto di vista della personalità? No, no, io direi da un punto di vista qualche giocatore magari più dotato sul piano tecnico. Tra l'altro, come diceva prima, si è fermato Cavani, si è fermato il Napoli? Non è che si è fermato. Il Napoli magari fa la sua parte, però se non c'è chi realizza poi diventa difficile. Quindi un po' troppo affidamento su Cavani è stato fatto? Molto affidamento su Cavani e magari è mancato un po' in zona gol, Pander e anche questo ragazzo giovane è molto interessante. L'incertezza sul futuro di Mazzari può aver creato un problema sul rendimento del Napoli? No, io credo che Mazzari rimanga a Napoli anche perché sta costruendo, sta cercando di centrare un obiettivo importante e credo che continuerà il lavoro. Ci sono parecchie voci che lo vorrebbero sulla macchina di altre squadre? Le voci di questo periodo qui ci sono per tutti, da Ancellotti a Mourinho a Guardiola, ci sono per tutti. Però Mazzari può continuare il suo ciclo? Non si è esaurito il ciclo di Mazzari al Napoli? No, direi che inizia semmai perché non è un ciclo esaurito, è un ciclo che deve iniziare e quindi dovrebbe rimanere. Anche da un punto di vista delle motivazioni secondo lei ne ha ancora Mazzari? Io credo di sì. Come sarà possibile però per il Napoli continuare a riprendere la corsa verso il secondo posto visto che il Milan comunque sta spingendo parecchio e si trova a insidiare il secondo posto del Napoli? Bisogna vedere il Milan come va in Champions perché col 2-0 ottenuto contro il Barcellona è un grande risultato e quindi può passare il turno. La Champions poi diventa un impegno importante. Il Napoli, l'abbiamo detto, non ha altri impegni e non credo che Mazzari tralascerà niente per arrivare al secondo posto.